A Larino sono entrati ieri nel clui festeggiamenti in onore di San Pardo con la Carrese Frentana, una manifestazione che ogni anno attira tanti curiosi e fedeli sia dal Molise ma anche dalle regioni limitrofe. Ben oltre 130 carri addobbati con i tradizionali fiori di carta hanno percorso la processione che attraversa tutto il centro storico del comune basso molisano, una tradizione che non conosce il peso degli anni e che anche in questa edizione ha riscosso un notevole successo. Davvero tantissimi per fortuna, innanzitutto tutti i cittadini sono coinvolti in questa festa meravigliosa che per noi ricorda la tradizione e le origini. È una festa piena di colori, profumi, rumori, suoni che il Larinese sente davvero tantissimo e stiamo riuscendo anche un po' ad esportare questa festa, a promuoverla all'estero, tant'è che ospitiamo in questi giorni concorsi fotografici dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenza e venuta qui per gustare i nostri sapori e per godere della nostra festa. Vorrei ricordare a tutti che è importante non solo per l'Arino ma per tutto il territorio valorizzare questa che è una delle carresti più importanti del Molise. Tanti gli uomini delle istituzioni presenti come il presidente della provincia di Campobasso Rosario De Matteis, l'onorevole Laura Venitelli, Sabrina De Camillis e il consigliere Nico Ioffredi in rappresentanza della regione Molise, ma anche i vari sindaci del cratere per una festa che ogni anno riesce ad emozionare con uno spettacolo che unisce il sacro al folclore.